vi auguro di avere sempre un bel po di storie da raccontare ma di avere anche il tempo la pazienza la voglia di ascoltarne di nuove vi auguro di incazzarvi spesso se necessario ma di non aver paura a chiedere scusa difidate di chi non sa chiedere scusa il troppo orgoglio genera guerre vi auguro di rompere gli equilibri e scegliere perché già restare in equilibrio è difficile se poi lo si fa sulle cose in sospeso è impossibile non cadere in definitiva vi auguro di stare al meglio che non vuol dire toccare il cielo con un dito no ma a volte banalmente e semplicemente riuscire a rimanere in piedi perché in un mondo dove fare lo sgambetto è una disciplina olimpica mi sembra già qualcosa e ovviamente vi auguro anche buon natale e se tra tanto tempo ma io così avrete più possibilità di fare in modo che sia veramente buono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti